Bologna meritava di vincere, senza se e senza ma. Un secondo tempo nettamente migliore del Bologna, il Napoli secondo tempo è andato in tilt, a tratti molto in tilt, in parte magari qualcuno si è rilassato, insomma deludente il Napoli. Difesa da rivedere sia nei singoli, perché poi i singoli sì, gli errori non si fanno, ma anche nel meccanismo difensivo qualcosa non va, cioè nella parte che riguarda anche il centrocampo, la parte prima di arrivare proprio nell'area avversaria, il quale mi sembra che le squadre avversarie a volte vanno veramente così, negli spazi aperti, che non va bene. Gattuso, tu devi costruire una squadra che vinca gli scudetti, eccetera, non puoi permetterti che questa squadra abbia queste caratteristiche, cioè la squadra deve essere una squadra che dia sicurezza, cioè tu vuoi fare una squadra di attacco, sì, però poi non è che ogni volta che chi si piglia una palla e se ne vanno, si infilano, ci trovano praterie, nessuno li contrasta e poi arrivano in aria e lanciano i giocatori in aria e chi le segna. Insomma, non esiste proprio, tecnicamente, ma pure sui calci piazzati, abbiamo preso il gollo chiaramente sia pur annullato, ma la difesa, insomma, ha mancato sia lì sia il secondo gollo annullato, sono due gollo annullati, ma sono dovuti a, però per un centimetro, quindi tecnicamente il Napoli li ha subiti quei gollo, quindi si capiva che prima o poi chissi facevano gollo, quindi il primo tempo, diciamo, positivo, sì, un politano positivo, ma, insomma, non è, non è super, super campioso, però, insomma, ha fatto, ha fatto delle cose bene, poi lo Zano, eh, che legherei, insomma, non è che poteva forse più di quello, non, non si sa, però, ripeto, io ho bisogno di rivalutarlo come prezzo, cosa, certo, è un peccato poi darlo per pochi soldi, ma non lo trovo un campione, e non diventerà mai un campione. Milik, un disastro completo, perché Milik, è un giocatore che se ne deve andare, io l'ho sempre detto, un giocatore, sì, poi hai avuto quei momenti, hai fatto dei gol, cioè qualche cosa, sì, ma tu c'hai avuto il tiro forte, tu, piglia la palla e Cingisic, piglia la palla e Carmder, queste cose non sono ammissibili, un giocatore, una grande squadra, poi le altre squadre ti vogliono, la Juventus, l'Atletico Madrid, fatti loro, poi sai, nel giudizio loro non riescono a essere completamente attenti, come forse uno che segue quella squadra, io a Milik l'ho capito subito dalle prime partite, anche quando facevo il precampionato, più di quello non dà, 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 deludente, deludente, quindi, pure Zieliška, ma perché Zieliška, possibile mai, che fai, 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 non lo so, non, come se ci manca, gli mancasse sempre qualche cosa, diciamo questo, il Napoli, vabbè, ci sta che poi, a un certo punto, deve anche, deve anche, un po' rilassarsi, non aveva, probabilmente il Bologna, aveva più motivazioni, perché, per il Bologna, insomma, cercare di conquistare dei punti in avanti, su qualche posizione, è sempre, Napoli, oramai, però, è un peccato, però il Napoli, doveva, domenica scorsa, doveva vincere, doveva vincere, l'abbiamo regalata quella partita, e l'abbiamo giocato bene, e l'abbiamo regalata, oggi, comunque, abbiamo tutte le carte in regola, per poter, mantenere, la, il controllo della partita, ma il controllo, cioè, una partita, un Tusi è andato in vantaggio, benissimo, controllo, avresti, anche se era un Napoli, di riserve, tu avevi già la possibilità, cioè, è una mancanza, se una grande squadra, presupposta grande squadra, una volta che va in vantaggio, non riesce, a, a, a chiudere una, ma non ha avuto manca occasione, cose, non ha fatto granché, insomma, però sembrava che, comunque, il primo tempo, potesse controllarla, qualche, qualche spunto di Politano, c'è stato qualche buono spunto di Politano, e di Lorenzo sulla destra, buona combinazione, però, più di tanto così, anche perché, al centro c'era Milic, non è che, faceva granché, secondo tempo, chiaramente, si sapeva che, a quelli, venivano, entravano, con grinta, perché ci tenevano, Milanovic, l'avrà strigliato per bene, e quindi, pressavano, poi, pur questa cosa, che il Portiere, ha da fare, forse che la cosa, mi va benissimo, anzi, deve, ormai si gioca così, il Portiere, si cerca di iniziare l'azione, però, il Bologno, faceva proprio, una pressione, molto, particolare, e noi, facevamo sempre, questa azione, mi pare, rischiosa, con, Meret, che la dava a Demme, al centro dell'aria, ma, e poi, Demme la dava sul lato, però, sembrava pure, prevedibile a un certo punto, sì, alla fine, questo Napoli, o la squadra, si fa, e si deve fare, come si deve, bisogna, bisogna, nel gioco, il gioco, la compattezza della squadra, la mentalità c'è, grazie a Gattuso, la squadra, gioca, gioca bene, insomma, al di là di, è in grado di fare, di giocare bene, però, c'è qualcosa, che non convince, nel meccanismo, soprattutto, quando poi, tu stai attaccando, e poi, prendi queste azioni, in contropiede, con questi che fanno, che vanno, nelle praterie, mi sembra, sì, questo, questo è l'elemento, un po' scocciante, cioè il fatto, che, Napoli, prendesse contropiede, ma, perché, mi ha dovuto incontropiede, stai vincendo una zè, insomma, dico io, ma, mi sembra, veramente, molto così, quindi, criticabile, Napoli, da rivedere, siccome noi teniamo il Barcellona, certamente, con il Barcellona, ci sarà una concentrazione massima, ci sarà, ci sarà quello che ci sarà, però, io guardo, soprattutto, perché il Barcellona è come fosse una situazione a sé stante, ecco, diciamo, un miracolo che si spera possa avvenire, e qualche possibilità c'è, si gioca in campo, insomma, senza spettatori, insomma, qualche possibilità c'è, insomma, il Napoli ha la possibilità di segnare qualcosa, cioè, perché è sempre una squadra in grado di segnare, però, diciamo, che bisogna, bisogna, anche vedere, soprattutto, per l'anno prossimo, questa si sta impostando, una squadra, preparandola anche per l'anno prossimo, ecco, per fortuna pare che arrivi, questo, o si menna, certamente, è un giocatore che noi non conosciamo molto, però, è un giocatore, comunque giovane, allora, le persone che fanno un campionato, fanno un sacco di gole, questo, non, in se stesso, non significa niente, basta, abbiamo tanti esempi di giocatori, ma pure il Napoli, cioè, pure, chi era, Piotec, mi pare che, De Laurentiis era fissato, voleva comprare, stanno scorsa a Piotec, ma anche se stai in Milano, o stai in banchina, non lo stai, comunque, Piotec, vi ricordate, Piotec, nel Geno segnava, un gollo, un gollo, un gollo, dopo un altro, e il Milano se lo compra, e poi appena, proprio contro il Napoli, credo, esordì, nella Coppa Italia, subito, subito, assegno, telecronisti, in visibilio, i saluti, Piotec, Piotec, ma che è successo? Arosta, stai a giocare, ma chi è? E poi, perché il calcio, alla fine, riequilibria tutto, non ci stanno persone, tranne i grandi, tranne, ovviamente, Maradou, tranne i gol, insomma, è là che si vede il campione, per cui tu vuoi, non è che, che ora, Osimène ha fatto un grande campionato, sui gol, in Francia, eccetera, e noi possiamo pensare che è necessario, però, è un giocatore giovane, è un giocatore che, certamente, delle caratteristiche di velocità ce l'ha, la tecnica, mi sembra che abbia, sì, l'hai da vedere, secondo me, non so se è perché è veloce, ma a volte vedo che si è allungato, in quei video che si vedono, si allunga un po' troppo la palla, però, diciamo che, è un giocatore ancora acerbo, è un giocatore così, però c'ha 21 anni, io credo che, comunque, non faccia mai un cattivo affare, il Napoli è sempre stato abituato, anche a rivalutare, quindi, i giocatori, certo, non è il caso di Lozzano, per esempio, però, in generale, insomma, un giocatore, che viene a giocare, in una squadra come il Napoli, in questi ultimi anni, ha sempre vicino a sé, dei giocatori di livello, di classe, eccetera, e fa sempre un gioco spumeggiante, in cui questi giocatori, potrebbero, comunque, rendere, quindi, comunque, non credo, credo che sia un investimento da fare, come sembra che lo faranno, quindi, speriamo che si concluda, insomma, questo, e poi, però, l'anno prossimo, cioè, la fascia destra, Politano, Lozzano, Cielozzano, vogliamo rivalutare, ma, diciamo, io credo che, a me, dico, Lozzano, è una mezza, schifezza, può fare meglio, ha dei voti, messo in condizioni particolari, ma devi fare un gioco tale, che lui, basta, non è che poti mai aspettare la vota, Politano, Politano può essere, per me, un buon panchinaro, può fare anche, certamente, stasera si è dimostrato, un giocatore, ha fatto delle belle cose, eccetera, però, io vorrei, un giocatore di alta classe, se devo sostituire, Caleon, Caleon che, comunque, manterrei, manterrei assolutamente, perché Caleon, ha tante quelle qualità, anche dal punto di vista, dello spogliatore, ma comunque, proprio tecnicamente, intelligenza, non esiste, quindi, per farla breve, il Napoli è ancora, in una situazione, insomma, mentalmente c'è, la mentalità si è che sta creando, sta così, però, bisogna valutare, soprattutto, per quanto riguarda, soprattutto, le prossime partite, con il Barcellona, il problema anche della difesa, eccetera, non lo so, è per il futuro, la difesa, cioè, noi vogliamo una squadra attacco, sì, noi vogliamo una squadra, che faccia pressing, che cosa, però, noi non vogliamo una squadra, che appena perde la palla, che il traslino, porta così, nelle praterie, qualcosa non è andato bene, quando questo avviene, quindi, evidentemente, lavorate, cattuso, lavora su questo, perché, se no, non andiamo bene, che noi possiamo fare così, sono tutte partite, domenica scorsa, dobbiamo vincere, perché si vincono, stai vincendo 1-0, non puoi permetterti mai, di farti raggiungere, ecco, e tu, insomma, Napoli, insomma, datti una strigliata, perché, perché, prima di tutto, fra due o tre settimane, poi a qualche giorno, abbiamo il Barcellona, e cerca di essere, al 100%, per fare il miracolo, il miracolo, andare, poi a Lisbona, e sbaragliare tutti, finale con l'Atalanta, secondo me, proprio l'Atalanta, può fare lo scherzetto, a tutti quanti, arrivederci.